Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla 1 per lavori chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Aglio e Pian del Voglio. In direzione Bologna chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla Fipili tra Montelupo ed Empoli Est chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Per questo motivo un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze e rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione e restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!